Qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Potrei dirlo, ma Micheletto aspetta la porta a est delle terme di Traiano Ha in mente di far travestire i suoi uomini per far sembrare il tutto un incidente Sarà lui a condurmi dall'amante di Logrezia Ezio, Macchiadelli ci ha tradito Vorremmo entrambi che non fosse così, ma è evidente Adesso fa ciò che va fatto Se non lo fai tu, lo faccio io Senza i lati della Volpe dovrò ricorrere alle mie reclute Nobili signori, qui si paga un extra per il valore aggiunto compreso in ogni cosa Vi prego, io non ho fatto nulla Francesco Troche Amico mio Ti mentirei mai? Tu hai rivelato a tuo fratello i miei piani di guerra per la Romagna E lui ha contattato l'ambasciatore di Venezia Non è colpa mia, io sono vostro servitore e alleato Pretendi che ignori ciò che hai fatto solo in base alla nostra amicizia? Lo chiedo, non lo pretendo Se vogliamo unificare l'Italia, ogni istituzione deve finire sotto il mio controllo E se la chiesa non si mette in rega Non mi resterà che annientarla Ma sapete che lavoro per voi, non per il Papa Ah Ne sei sicuro, Troche? Ormai ho soltanto un modo per saperlo con certezza Volete uccidere me? Il vostro amico più fedele? Naturalmente no Vi lasciate andare? Grazie, Cesare Non ve ne pentire Guardie Date a Micheletto i costumi di scena Lucrezia è mia E di nessun altro Assicurati che non vengano commessi errori Obedisco, Cesare Ah, sì Gettate il cadavere di Francesco nel Tevere E di nessun altro Oh Di certo avrete qualche spicciolo da donare Oh, guarda Oh, guarda Oh, guarda Oh, guarda Ah Oh, guarda Oh, guarda Oh, guarda Oh, guarda Sì, non è vero, non è vero. Sì, non è vero. Non puoi sfuggire a tutta la guardia. Sì, non è vero. 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 è vero. è vero. è vero. non è vero.